Avvocata Ortali, secondo lei in questi anni la professione ha fatto passi avanti in tema di diversity e quali sono comunque le prossime sfide per il futuro? Il dibattito è sicuramente aperto e da tempo oramai si parla di gender diversity anche nelle libere professioni, anche nel nostro settore. Già un dibattito è importante, le sfide sono ancora tante, si vedono i primi segnali positivi, è un grosso cambiamento culturale per noi come per altri ma è importante andare avanti in questo senso. Credo che ci siano tante opportunità che stanno emergente, il nostro studio come altri studi hanno cominciato a riflettere sull'importanza di valorizzare la diversità, di sfruttarla, di coglierla come opportunità non solo per un miglioramento delle persone che lavorano ma per un miglioramento complessivo della professione e tutte queste iniziative, anche la vostra, sono importanti per portare avanti questo discorso. Grazie Avvocata.